Musica Buonasera, buonasera, benvenuti anche oggi al nostro sdraiato, anzi ai nostri sdraiati sul divano. Questa sera due sdraiati molto molto particolari. Allora il primo, eccolo qua, è il professore Aristide Malnati. Ciao, ciao Adriana. Ciao Aristide, noi ci diamo dei tuppi e tutti ci conosciamo. Assolutamente sì, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Era già venuto su questo divano, ma dopo l'esperienza della pupa e il secchione abbiamo voluto un po'. Ho qualcosa da raccontare di nuovo, da rinfrescare. Dobbiamo rinfrescarti e poi so che tu ci hai portato anche una sorpresa. Nella seconda parte, quando al mio posto arriverà Luciano Rindone, su quel divano si sdraierà un'altra persona molto 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 famosa, molto cool, molto fashion, che ci porta Aristide. Quindi dopo Aristide un'altra sdraiata, lo possiamo dire, una donna di eccezione. E quindi restate con noi. Allora Aristide Malnati, facciamo una carta d'identità. Ah, innanzitutto il tuo soprannome è Mummi, vero? Mummi, sì, per la mia particolare propensione verso le mummie. E facendo l'archeologo. Sì, ho fatto l'archeologo. Sono padre, fra virgolette, di 52 mummie. Tante ne ho trovate durante gli scavi archeologici a Teptunis, nel Fayum vicino al Cairo. Sì. È un sito greco-romano, quindi di epoca di Cleopatra. Le trovate tu? Le ho trovate l'equipe di cui io ero direttore, quindi gli operai le hanno maggolmente estratte. Guarda, a essere precisi, quella campagna di scavo si è svolta nel 1993. Ok. Ed erano mummie. Eri giovane. Attorno a 2000 anni, sì. Ero un archeologo giovane. Ero proprio giovane. Se anche adesso, però lì eri proprio giovane. Adesso sono diversamente giovane, allora lo ero davvero, soprattutto rispetto alle mummie, ero davvero giovane. Ti manca andare a fare gli scavi, andare a fare l'archeologo sul campo? In parte sì, mi diverte il fatto però di raccontarlo nelle trasmissioni che faccio o negli articoli di giornali. Mi diverte raccontare quelle esperienze, soprattutto quello che abbiamo trovato e il peso che hanno avuto questi risultati a cui noi siamo arrivati nella determinazione della storia. Quindi è l'importanza che... Ma adesso se arriva un extraterrestre e ti chiede che professione fai? Tu dici ancora archeologo o dici opinionista tv a partecipante ai reality? Cosa dici? Io sono divulgatore massmediatico con una certa propensione all'intrattenimento. Bella come professione, divulgatore massmediatico. Non so se si possa scrivere sulla carta di scrittura. No, è neanche come in sottopancia un po' complicato da scrivere. Quindi non diresti più archeologo? Non più, dal 2000, dal 2001 io non vado più in Egitto, quindi ero diventato anche ricercatore all'Università di Strasburgo. Ma poi il sacro fuoco del giornalismo, soprattutto su importanti pagine culturali, ma anche poi con fortunate trasmissioni anche qui da voi. Ho preso poi il sopravvento e preferisco la divulgazione alla ricerca, anche se ho grande nostalgia della ricerca. Ma tu hai anche insegnato, quindi il concetto della divulgazione, del passare delle informazioni alle giovani generazioni ce l'avevi già nel sangue. Assolutamente sì, ho insegnato prima come ricercatore all'Università di Strasburgo, poi in un paio di licei, per un paio d'anni qua a Milano. E poi chiaramente il giornalismo, ma anche l'intrattenimento con Radio Monte Carlo, poi con trasmissioni nazionali popolari. Senti, tu hai fatto due reality, no? Tre. Tre? Io ne ero rimasta due. Il grande fratello Vip? Sì, prima avevo fatto l'isola. Avevi fatto l'isola, esatto. E adesso, ecco, dei tre, sono tre reality diversi, ma sono tutti e tre reality. Quale esperienza ti è servita di più nella tua crescita personale? Allora, la pupa e il secchione ha avuto un ruolo importante e poi si capirà perché. E quindi, ma lo capiremo più avanti durante questa trasmissione. A parte gli scherzi, però, tutte e tre mi hanno dato... Molto diversi, no? Perché l'isola devi anche, non dico lottare per la tua esistenza, però insomma è complicato. L'isola è molto fisica. È molto fisica. Io però non ho avuto problemi, ho perso 11 chili in 5 settimane. Lo consiglia a chi vuole fare la dieta? Sì, esatto. Sei pagato per dimagrire, molti pagano per dimagrire. Sì, esatto. Sai la fatica che facciamo noi ragazzi. Esatto. 11 chili in 5 settimane. Poi la fame l'ho gestita, perché poi ti rendi conto che accetti questa condizione. Sì, poi ci si abitua tutto. E così come ho gestito. Quello che mi ha fregato è stata la solitudine. Io ho deciso di tornare a casa, potendolo fare, perché mi avevano mandato in spiaggia solitaria, ma io da solo non riesco a stare. Quindi è quello che ti ha, non la difficoltà, la fame, ma la solitudine. Quello è interessante. E il Grande Fratello invece è la cosa che ti è piaciuta di più e la cosa che ti è piaciuta meno? Guarda, il Grande Fratello mi ha dato la possibilità di raccontare tantissime esperienze per me particolari, anche molto toccanti, in quanto Alfonso Signorini, per chi non lo sapesse, che è la mente, l'ideatore e il conduttore del Grande Fratello, diciamo permette ai concorrenti di raccontarsi, di raccontare le corde più recondite. E tu in quel reality sei riuscito a tirar fuori te stesso, come se fosse un lettino dello psicoanalista. Meglio che dello psicologo, sì. Ah, e ti ha fatto bene. Sì, mi ha fatto bene, io poi sono rimasto fino alla fine, sono arrivato in finale e ho raccontato tanto di me stesso, ho usato anche l'ironia, perché c'erano anche i momenti di ironia, quando facevamo sport, cioè le giornate erano piene. Quindi è stato un terapeutico per te? Sì, sì, assolutamente. E la Pupa e il Secchione, veniamo all'ultimo. La Pupa e il Secchione è stata un'esperienza particolare, andavamo rinchiusi per otto settimane in questa villa magnifica alle porte di Roma, con un bellissimo uliveto che era un po' anche un pensatoio, dove io spesso mi rifugiavo anche per meditare, per stare un po' solo con me stesso. Ho fatto un'esperienza che è qui completa, l'esperienza è stata naturalmente condivisa, siccome qui si gioca in coppia, è stata condivisa. Tu eri in coppia con una ragazza? Con una ragazza, con due, perché inizialmente ho avuto Flavia Vento come partner, diciamo, ma poi lei quasi subito si è ritirata e quindi è arrivata Elena Morali. Che poi è stata con te fino alla fine. Fino alla finale, siamo arrivati in finale. Avete fatto amicizia, è nata una bella amicizia. Sì, è nata un bel rapporto. Ecco, sono quello che mi chiedo sempre io, eccovi qua insieme. Ma quello che vi chiedo, stai molto bene col papillon. Sì, devo dire che... Dovresti mettertelo di più. Ma senti, ma il fatto che sei diventato biondo platino... Sì, questo è stato uno scherzetto, ma gradito tutto sommato. Qua col fiodo non mi piaci. No, è vero. Ti preferisco col papillon. È stato un esperimento che ha voluto fare Federico Fashion Style, che era un famoso hairstylist, un parrucchiere, che era naturalmente uno degli opinionisti del programma e quindi mi ha mesciato. E ti ha fatto così. Senti, una domanda che ci facciamo tutti è come fa un professore, un uomo di cultura, anche di scienze, perché l'archeologia è anche una scienza, come fa un uomo di scienza, che quindi ha una profondità culturale, poi a fare un programma così leggero. Cioè, come si passa dallo studiare le mummie a andare in televisione sostanzialmente per far ridere, no? Perché poi fate un ruolo per intrattenere e far sorridere la gente. Penso che l'essere umano, in quanto tale, debba essere aperto a più cifre comunicative. Sì. Io direi che adesso, non tanto nella Pupesettione, ma soprattutto nel Grande Fratello, io ho avuto la possibilità di parlare, seppur in pillole, di mondi sconosciuti ai più dapplatore. Ah, tu dici inserire in un contesto ludico un messaggio culturale. Un messaggio culturale, magari anche solo in pillole, perché non hai un grandissimo spazio. Però dire... E poi la curva dell'attenzione di chi guarda la Pupesettione è piccola. Ecco, puoi comunicare a dei ragazzini che magari vivono in quartieri difficili, che hanno una condizione scolastica difficile, che non sanno neanche chi sia, Piero Angela o Alberto Angela, che magari il Colosseo ha svolto questa funzione, che Platone ha detto queste cose, sempre in pillo, non è in modo da stimolare qualcuno. Quindi l'archeologo che c'è in te è rimasto. Beh, sì, sicuramente l'appassionato di storia che ti fa capire come è nata la democrazia, naturalmente deve assolutamente, diciamo, beneficiare di questo piccolo spazio che gli è concesso per raggiungere un pubblico che diversamente non sarebbe mai raggiunto. Sì, no, chiaro. Questi ragazzi che vedono il Grande Fratello e che magari lo seguono sui reality, non sanno neanche chi sia Piero Angela o Alberto Angela. O Platone. Ho avuto Platone, no? Ma non aprono, non hanno mai aperto un Corriere della Sera o una Repubblica. Sì, magari studiano perché sono costretti, ma non gliene frega niente. Sì, e hanno un percorso scolastico magari farraginoso. Quindi vedere che comunque esistono questi mondi lontani che qualcuno studia e su cui si fa ricerca, per loro penso che sia importante. Cosa ne pensi di quelli che dicono che quelle tv spazzatura? Sì, ci sono. Quelli che lo dicono. Sì, lo so. Io penso che il compito... Questo è l'itarismo che c'è, non è un certo pubblico. Magari poi sono gli stessi che vanno a vedere questi programmi, perché io mi aspetto anche questo. Però io penso che... Come succede per Sanremo. Certo, certo. Quando c'è il festival di Sanremo, c'è questa pletra di gente che dice... buco della serratura. Io mai! E poi lo guarda. Chissà perché tutti arrivano al grande fratello facendo zapping. Io non ho mai visto uno che facendo zapping è arrivato su Piero Angela. Questo è geniale perché tu dici, nessuno ha il coraggio di dire... Nessuno ha il coraggio. Io ho guardato al grande fratello. Dice, ma ieri... Facendo zapping... Ero lì. Ma chissà come mai. Cucinavo. Però sai, io penso tutto sommato che il compito precipuo della televisione, o uno dei compiti precipui sia di intrattenere, tutto sommato. E tu dici, si può anche informare intrattenendo. Non può sostituirsi alla scuola o al libro. Cioè tu dici, si può informare trattenendo. Sì, ma certo. Intrattenendo. Intrattenendo, certo. Sì, l'obiettivo è questo qua. Quindi, ma tu hai incontrato qualcuno che ti ha detto ah ma tu fai quei programmi spazzatura. Ti è capitato personalmente? Beh, è capitato. Ah ecco, e com'è andata? Io ho risposto in questo modo, sempre con molta calma ed educazione. Ci mancherebbe altro perché poi sono persone razioginanti e quindi... Di solito sì. Ne vorresti fare un altro? Di reality? Sì. Ma magari Pechino Express. Eh, per manca quello. Sì, mi mancherebbe quello. È un reality estremamente strong, estremamente... Anche quello fisicamente è una prova? Fisicamente impegnativo, certo. Però chissà mai. Va bene. Comunque parliamo ancora di reality, parliamo ancora di quello che è successo e dei segreti di Aristide dopo la pubblicità. A tra poco. Rieccoci sempre con il professor Aristide Malnati. Stiamo un po' parlando delle sue avventure televisive. che vanno in parallelo con la tua attività di divulgatore scientifico e storico. Assolutamente. E archeologico. Io per voi faccio una trasmissione importante che è storia e misteri. Che storia e misteri, esatto. Poi fai la gita con l'archeologo. Gita con l'archeologo. Che il nostro programma lo ci porta in giro per i luoghi italiani e non solo. Soprattutto italiani. E poi parliamo anche di teatro. Tra natura e cultura. Tra natura e cultura e storia. Senti, si fa più soldi con i reality o con la cultura? Beh, se uno facesse un reality all'anno sarebbe, come si dice, magna res, cioè tanta roba. Sì. Però, beh, bisognerebbe rivolgere questa domanda a Sgarbi. No, beh, ma io la chiedo a faccio a te. Certo, no. Io credo... Certo, che se uno ne fa uno solo nella vita, però farne un po' ti da... Allora, diciamo che i reality una volta e la televisione in generale, ritengo, fossero pagati molto bene. Sì. Adesso... Cioè la crisi si nota anche lì. Sì, 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 decisamente. Anche nei compensi dei reality. Decisamente meno. Sono pagati decisamente meno. La cultura, beh, naturalmente esiste sempre un aspetto di monetizzazione. Cioè, secondo Franceschini dice che il ministro della cultura diceva anche con la cultura si mangiano. Gli dicevano che con la cultura non si mangia. La domanda è che con la cultura si mangia? Sì, sì, probabilmente. A livello di singola persona, beh, certo, se sei titolare di cattedra, insegna all'università, se sei sovrintendente di un'importante provincia... Ma quelli sono pochi. Eh, lo so, certo. Ma tu la consiglieresti una laurea classica a un giovane d'oggi o gli diresti lascia perdere che non sopravvivi, non arrivi alla fine del mese? Allora, bisogna distinguere tra cultura e istruzione. Se uno vuole istruirsi, allora è giusto che preveda di avere una serie di competenze tecniche che poi gli diano un ruolo vincente nel mondo del lavoro e quindi la laurea in lettere classiche non è... Con filosofia come la mia? Con filosofia, ecco, non sono le più idonee. Però se uno invece che all'istruzione mira la cultura, cioè la cultura da colo in latino vuol dire coltivare, vivere, tutto sommato, allora la consiglierei. Però dopo come sopravvive? Questo è difficile. Però dopo ci sono comunque... Non dobbiamo pensare che con una laurea... Cioè, voglio dire, comunque ti apre delle possibilità. Ok, quindi tu la consigli. Ti dà una forma mentis. Cioè se un giovane o una mamma, un papà, ci stanno guardando con un figlio che dice mamma voglio fare lettere classiche. Questo l'ha detto, lo studio del latino, del greco, queste lingue molto logiche, della filosofia, che è il puro pensiero, ti danno una forma mentis che può rivelarsi vincente anche nell'ambito di un'azienda. E anche quindi di una professione tecnica e non sculturalmente segnata. Di una professione magari nell'ambito dell'economia. Ok. Senti, veniamo a te invece. Tu che rapporto hai con i social? Quando io ti ho conosciuto, svelo un segreto di Aristide Malnati, lui aveva ancora un cellulare di quelli vecchi. Sì, un vecchio Nokia. Un vecchio Nokia di quelli che non aveva internet e non aveva WhatsApp. Il WhatsApp, tutti quanti che ci guardano ce l'hanno, conosco tre persone al mondo che non ce l'hanno e una eri tu, non ci sei più. Poi a un certo punto mi ha detto no, ma io ce l'ho WhatsApp. Adesso hai Instagram, hai Facebook, hai tutto. Sì, sono i reality. È stata una rivoluzione copernicana, un po' come i capelli biondi. Ogni tanto nella vita bisogna cambiare, bisogna adeguarsi giustamente. I social, allora WhatsApp è un conto, WhatsApp è molto utile. Però non avedi neanche quello. Certo, non avendo internet. Tu mi mandavi gli sms. Che poi alla fine era la stessa cosa. Beh, non potevi mandare le foto, certo. Sì, ma sai che molti contratti ormai non prevedono più gli sms. Comunque, mi sono adeguato, dopo il grande fratello. E ti trovi bene nel mondo dei social? Ma mi diverto, non ne so. Le curi tu le tue pagine o hai qualcuno che ti aiuta? Sì, o beh, la mia amica Virginia spesso mi aiuta, perché poi noi abbiamo anche l'Instagram di Storia Misteri. Sì, ma i tuoi post li decidi tu o te li suggerisce lei? Sì, no, li decido io più o meno, anche perché non c'è una particolare regia dietro. Ok, no, bene, alcune persone celebri ce l'hanno la regia dietro. Certo, sì, 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 no, certo. Però tu le tue pagine te le curi tu? Sì, sì, sicuramente. Ok. A secondo di quello che faccio, io posto, insomma, poi non sono così onnipresente. No, no, però hai un sacco di seguito, quindi... Ho un certo numero, certo. Tanti follower, quindi questo vuol dire che in ogni caso la tua figura è seguita, ecco. Sì, 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 sì. Questo è importante. Diciamo che tra i papirologi sono forse quello che ha... Ah, sicuramente, no, perché quello che hai detto tu è giusto. Cioè, il fatto di collegare l'archeologia, la storia con il mondo della comunicazione permette appunto anche a un papirologo di parlare al mondo, no? Di parlare ai ragazzini, no? Che forse... Questo è un po' quello che aveva fatto Sgarbi all'inizio, no? Certo. Sgarbi ha avvicinato la storia dell'arte al popolo. Sì, 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 esatto, al cittadino comune. Ah, esatto, al cittadino comune. Ma tu ti sei ispirato un po' anche a Sgarbi? Ma allora... O mi ricordo qui a Milano c'era Filippo D'Averio, compianto. Ecco, forse più a D'Averio. Forse più a D'Averio. Io sono un fautore di D'Averio, sto collezionando anche i libri allegati al Corriere della Sera che sono dedicati prima ai pittori, poi ai musei di tutto il mondo scritti da D'Averio. E però il concetto era quello, no? Il concetto era quello, sì. Quello di divulgare in maniera facile e semplice per arrivare, come dicevi tu, al cittadino comune. Senti, andiamo un po' sul privato tuo. È meglio l'amore o l'amicizia? Di solito l'amicizia, in alcuni casi però è impossibile. Impossibile perché? Beh, perché quando scattano determinate molle... Ah, perché scatta l'innamoramento. ...divente è impossibile trasformarmela in amicizia. Cioè scatta l'attrazione. L'attrazione, sì, certo. Ma se tu dovessi scegliere tra un amico o un amore, cosa scegli? Non si sceglie mai, non si può scegliere. Non si può scegliere. Di alcune persone puoi essere solo amico, di altre non puoi essere amico. Anche se tu venissi rifiutato, comunque non potresti vederlo come amico, insomma. Come amico. Cioè bisogna essere in due? Bisogna essere... Allora, chiaramente se tu hai... Beh, anche l'amore però. Certo, no, ma se tu hai una predisposizione e un'attrazione, una pulsione forte nei confronti di una persona, diventa difficile trasformarla in amicizia. Se anche questa persona ti dovesse rifiutare, piuttosto che ne vai, ma non... Ma certo, a quel punto lì... Non puoi vederla magari con un altro, diventa molto difficile. No, certo. Della maggior parte delle persone. E ci sono degli uomini che invece pur di avere accanto delle persone, si beccano le confidenze. Ah sai, sono innamorata di questo. Certo, ma dentro di sé la vedono sempre in un certo modo e quindi soffrono poi nel vederlo abbracciato a un'altra persona. Certo, certo. Ma hai mai tradito tu amici o amiche, fidanzate, fidanzati? No. Hai mai tradito? No, no. Sei stato tradito? Eh, sì, sì, è capitato, ma... Come l'hai presa? L'ho metabolizzata, sì. Ma sono ricordi passati. Cioè te la sei fatta andare bene? Sì, poi ti rendi conto che... Ma anche nell'amicizia parlo, eh? Sì, sì, anche nell'amicizia. Perché forse è anche brutto il tradimento degli amici. Il tradimento degli amici è perché è inaspettato e poi razionalmente è inconcepibile. Certo, io capisco che un'amicizia possa avere degli alti e dei bassi, perché magari ti senti tanto durante un certo periodo di tempo, poi... È così. Sì, sì, sì. La vita magari ti allontana per un certo periodo. Per cui, però dentro di te l'amico da qualche parte rimane sempre. Quindi tradire, cioè tradire la fiducia di un amico o non vederlo più, decidere di non incontrarlo più, è brutto perché poi non c'è un'attrazione, una mancata attrazione che possa giustificare questo comportamento. Cioè non c'è un motivo perché dall'altra parte magari io non mi relaziono più con una persona di cui sono innamorato, ma è ovvio perché... Sì, lì c'è un motivo. C'è un motivo emotivo, forte. C'è un motivo sentimentale che giustifica questo tipo di comportamento. Con l'amicizia dovrebbe essere tutto un po' più razionale. Tu hai più amici uomini o amiche donne? Fai più fatica, cioè è più facile avere amiche donne o amici uomini per te? Ma io ho tantissime amiche donne perché non potrei vederle diversamente se non come amiche. Perché dici così? Per tutte le ragazze, infatti la prossima domanda ti volevo chiedere quale delle ragazze che hanno fatto con te tutti i programmi di archeologia con quale sei rimasto più amico? Con Virginia. Con Virginia Regnero. Con Virginia Regnero è forse, anche se forse un po' esagerato, è la figlia che non ho mai avuto. E tu questa definizione l'hai data anche di Giulia Belmonte una volta? No, 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 io ho sempre detto di Virginia. La figlia che non ho mai avuto è molto bella? Certo. Come definizione? Giulia era un'amica, un'amica più giovane, a cui dare consigli. E che differenza c'è con la figlia che non hai mai avuto? Cioè che sentimenti ti scattivano? Un sentimento di protezione, un grande sentimento di protezione, di doverla consigliare. Lei si rivolge a te? Certo, lei si rivolge a me per questo, ma anche a mia volta lei è molto protettiva nei miei confronti, a sua volta scusami, lei è molto protettiva nei miei confronti, quindi è una cosa reciproca. Certo, ok. Adesso attualmente sei impegnato sentimentalmente? No, io sono… Sei un incallito singolo? Sì, ormai sono pieno di calli, diciamo, incallito e singolo. E ti manca non avere una famiglia, non avere una relazione stabile? Beh, diciamo che sì, al punto in cui sono più che una compagna, mi manca la possibilità, mi spiace non avere avuto un figlio. Beh, in teoria sei ancora in tempo, cioè voi uomini avete più tempo di noi donne. Diciamo che tra poco ci sono 48 anni, però… Vabbè, Moravia… No, no, d'accordo, anche Charlie Chaplin. Anche Charlie Chaplin, e io ho fatto gli esempi famosi, poi ce ne sono anche Mike Bongiorno. Certo, certo. No, lo so, lo so, però non ci penso. Ormai lo dai per scontato, che è andata così? Mi sembrerebbe, però non lo so. La cosa bella della vita è che ti sorprende ogni volta, è logico il domani. Esatto, poi può succedere ancora che una famiglia te la possa creare, cioè non è che hai 80 anni. Biologicamente posso… Beh, anche effettivamente, sei aperto a nuove storie o ormai tu dici basta, è andata così? Ma sicuramente sono aperto, come qualsiasi essere umano. Beh no, sì, però uno che la famiglia ce l'ha, spera che sia chiuso. No, 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 certo, certo, qualsiasi essere umano single, certo. Qualsiasi essere umano single. Senti, cos'è che ti fa paura nella vita? Arrivato alla tua età, alla tua posizione? La sofferenza delle persone che amo. Chi ami? Beh, i miei cari, innanzitutto mia mamma ovviamente, quindi le persone a cui sono legato per motivi diversi, la loro sofferenza… Più della tua? Più della mia, sì. Ah, è molto bello questo, perché? Non necessariamente fisica, può essere anche una sofferenza psicologica, ma perché mi immedesimo in loro. Siccome sono persone a cui voglio, per motivi diversi, a cui voglio molto bene, mi immedesimo e la loro sofferenza ipotetica, eventuale, diventerebbe anche la mia. Ok. Senti, qual è stato il momento più brutto della tua vita? Non lo so, sai, perché ci sono stati dei momenti di disagio di quando ero ragazzo, perché avevo… poi questo l'avevo detto una volta anche nel corso di un'intervista… Ho letto che tu hai avuto un problema di salute… Ho avuto un problema di salute… Pesante? Sì, comunque diciamo che ho gestito, ma poi per fortuna che poi… Quanti anni avevi? Tra i 13 e i 30, a fasi alterne, poi dopo è sparito completamente una malattia neurologica e questo non mi impediva di essere un atleta, insomma, io correvo i 100 metri a livello agonistico, insomma, quindi… Quindi la tua vita la facevi? La mia vita anche fisica l'ho fatta, quindi… Però appunto ho avuto quel momento di disagio. Quindi questi momenti fanno parte del bagaglio, della negatività della tua vita? Della negatività, certo, però mi hanno anche formato, perché comunque… Cosa ti hanno insegnato? Mi hanno insegnato che si può convivere anche con il disagio, con il disagio fisico e anzi questo a volte è molto formativo. E ti fa crescere? Sì, ti fa crescere. Ti fa crescere. E invece il momento più bello della tua vita? Parliamo di una cosa allegra? Ma ce ne sono stati tanti. Scegli ne uno. Io… Beh, sai che che… Beh, ecco, quando… Ma allora, facile dire quando ti sei innamorato, quando ti sei laureato. Ecco, io quando ho scoperto un papiro, eravamo sempre… Ah, che bello! Sono stato il primo, il papiro era stato appena trovato, io l'ho tradotto, l'ho restaurato e l'ho tradotto, ed era il primo testo di filosofia stoica e conteneva anche il nome di Socrate. Quindi, insomma, trovare un testo di oltre 2000 anni nel quale c'è scritto Ten Sokraten, cioè Ton Sokraten all'accusativo, quindi poi faceva tutto un discorso su Socrate, insomma, trovare il nome di Socrate… Sì, vuol dire che è esistito. Sì, vuol dire, certo, vuol dire… Esistito veramente, è la prova materiale che è esistito. Sì, sì, ovvio. No, perché Socrate poi non ha lasciato niente di scritto. È la conferma dello spessore del suo pensiero. Certo, perché è stato citato. È un'emozione incredibile, cioè trovare un testo che cita Socrate… Mamma mia, io ho vendossiato in filosofia e hai fatto venire la pelle bocca anche a me. In quel frangente mi ha reso… In quel momento l'uomo più felice del mondo. Mi ha reso felice, mi ha reso, come dire, appagato. Appagato. Va bene, ci fermiamo. Poi ancora qualche chicca su Aristide e soprattutto la sua sorpresa. A tra poco. Rieccoci, rieccoci, sempre con il professore Aristide Malnati. Abbiamo parlato dei reality, dell'Egitto, della tua vita privata. Adesso, qual è il desiderio… abbiamo chiuso l'altro blocco dicendo di cos'è che ti spaventa, le cose brutte. Poi mi hai detto la cosa bella di aver trovato un papiro, in cui c'era il nome di Socrate. Invece la cosa bella di adesso, cos'è che ti rende felice adesso? Giugno 2022. La cosa bella di adesso… Cioè i momenti che tu dici, ah, come sono contento. Sì, ho acquisito una capacità di socializzare, di rapportarmi in maniera spontanea e, diciamo così, senza grossi patemi, quindi in maniera anche costruttiva nei confronti di chiunque e della maggior parte delle persone. E questo non ce l'avevo quando ero giovane. E quindi mi sorprende anche un po'. Cioè, ero un po' solitario? Era un po' solitario. Questo aspetto di comunicativa, questa comunicativa, insomma, questa facilità anche di espressione e di relazione, direi che me l'ha data soprattutto il lavoro che faccio in televisione. Sì, ma soprattutto i reality o i programmi anche come qui? Sì, ma in qualsiasi esperienza televisiva, certo, i reality ha maggior ragione. E devo dire che questa cosa mi, ne vado orgoglioso perché in qualche modo mi riscatta di tutti quegli aspetti umbrati. Eri proprio un vero secchione? Sì, ero un secchione di quelli un po' cupi. Sì, sì, esatto, quei nerd. Ah, eri un nerd? Adesso non ti senti più un nerd? Adesso, ripeto, ho questo desiderio quasi di comunicare. E di socializzare? Di socializzare che... E infatti usi social? Che mi piace, sì, però non solo dal punto di vista virtuale, anche dal punto di vista pratico, perché i social, anzi, a volte nascondono una difficoltà di relazionarsi direttamente. Esatto, può capitare che uno si relazioni tanto con i social, ma poi in realtà abbia paura del contatto fisico, invece tu non ce l'hai. Esatto, no, per me è il contrario. Senti, invece dei reality, una cosa non ti ho chiesto prima, hai avuto un momento, parlo soprattutto dell'ultimo, della più polsecchione, in cui hai, perché gli altri me l'hai detto, in cui hai pensato, basta, non c'ho più voglia. No, anzi, io mi sono divertito, sono stato bene... Cioè, ci sono dei momenti pesanti. Ma, insomma, momenti pesanti fanno parte della quotidianità, anche della vita, e a maggior ragione dei reality, però alla popolsecchione avevo diversi elementi che mi hanno incoraggiato a proseguire, a proseguire fino alla fine, a proseguire con quella cifra comunicativa, quindi non c'è stato nessun momento di delusione, di... O di stanchezza, pensando me ne vado via. Quante settimane sei stato lì? In totale sono state otto. E, ma, quando sei lì, ecco, quello che mi chiedo sempre è, quanto ti manca il resto della tua vita? Cioè, non so, la tua mamma e le tue affetti? Beh, certo. Perché non puoi telefonare, no? Non puoi, ti tolgono... Infatti io e te dovevamo parlarci. Mi ricordo che ci avevamo sentiti il giorno prima e ho detto, non posso più, domani non ci possiamo sentire. Ti tolgono qualsiasi contatto, fermo restando che loro, la produzione, rimane in contatto con i tuoi cari. Certo, se tu stai male, se succede qualcosa. Qualsiasi cosa lo sai in tempo reale. Devo dire che a me questa cosa in realtà piace molto, fermo restando che ho sempre la sicurezza che tutto vada bene. Cioè, ti piace staccare? Mi piace staccare. E la cosa migliore... Ah, ti riposi. ...è obbligato a farlo, quindi... Tant'è vero che la produzione della Handball mi ha detto che io sono un animale da reality e loro vorrebbero avermi sempre... Perché ci sono quelli che fanno le scene da pazzi, tipo voglio... Eh sì, la maggior parte delle persone denunciano le proprie fragilità. Ti ricordi Enzo Paolo Turchi quando aveva pianto in diretta perché gli mancava la moglie? Sì, sì, certo, sono all'ordine del giorno queste cose, chiaramente. E naturalmente fanno parte anche della complessità dell'essere umano, insomma. La produzione lo sai. E invece tu no, tu riesci a separare... Io riesco a tirare fuori le cose positive, a fare anche tutto un lavoro d'introspezione, ad avere dei momenti con me stesso, a creare un flusso che poi seguo. Non ho grandi difficoltà. Quindi è una pausa dal resto della vita che ti è servita. È una pausa, cioè è una vita nella vita, insomma. È una vita nella vita, mi piace questo. Senti, ti sei mai fatto una canna? Ma guarda, perché mi dici questo? Perché è una domanda che facciamo. Che fate, no? Devo dire che... La facciamo tutti, giuro. Certo. Poi ci sono quelli che svicolano, ci sono quelli che sono sinceri, quelli che dicono a me questa domanda. Una volta io non fumo, non ho mai fumato le sigarette normali, anche perché facevo e faccio atletica leggera, però un paio di volte mi è capitato di fare un tiro. Ti è piaciuto? No. Non ti ha dato niente? Non mi ha detto nulla. E ubriacarti? No, quello no. Diciamo così, siccome non reggo molto l'alcol, di solito bevo uno barra due bicchieri quando capita di vino per brindare, ma non vado oltre. Ma non va io, quindi proprio poca roba. Che noioso. Sei un po' noioso. Diciamo che ho altri elementi da mettere sul tavolo. Cos'è che ti rende felice? Cioè se tu ti vuoi distrarre e vuoi dire adesso voglio stare sereno, che magari un ragazzo dice che beviamo a cena con gli amici, beviamo qualche bicchiere in più. Ma questa è una cosa che capita all'improvviso, non la devi costruire in maniera artificiale. E quindi la compagnia giusta, gli interlocutori giusti, la battuta, un crescendo di battute, un crescendo di situazioni mi rendono contento, allegro. Hai più momenti in cui sei allegro o momenti in cui sei triste o depresso durante la giornata? O momenti neutri? No, direi momenti in cui sono allegro oppure momenti neutri. La depressione, la tristezza. Quando ero ragazzo maggiormente, adesso molto raramente. Ah che bello, questo è un bel messaggio. Perché cerco di costruirmi una serie di antidoti. E ci riesci? Ma sì, generalmente sì. Senti, sul tuo cellulare, che adesso è uno smartphone, non è più quello che abbiamo detto, un vecchio Nokia, qual è il numero di telefono della persona più famosa? Beh, io presumo che con il mestiere che fai, tutti i reality che hai fatto... Beh, ho il numero di Alfonso, naturalmente. Di Alfonso, che però vabbè, tu lo conosci, no? Da tanto tempo. Sì, quello ce l'avevo, te lo sento. Ce l'avevi già, non vale granché. Barbara D'Urso, lavorando in questo settore, insomma adesso poi non... Non ti viene in mente nessun altro. Settore televisivo. A livello sportivo nessuno. A livello politico? A livello politico no, nessuno. Quasi, no, penso proprio di no. Che rapporto hai con la politica? A me interessa molto la storia delle dottrine politiche. No, non è quello che ti ho chiesto, con la politica attualmente. Partite, certo. Abbastanza distaccato. Ti interessa? Sono abbastanza distaccato. Abbastanza distaccato. Qual è il tuo primo voto o chi hai votato? Ho votato Pannella, i radicali, perché ritengo che Pannella sia stato, con quella scarsa percentuale che lui riuscì ad avere, fece cose molto più importanti di partiti che avevano percentuale. C'è stato un anno che ha avuto il 13%, che aveva avuto tantissimo. La Bonino. La Bonino, sì, non era lui, era la Bonino. Io ritengo che poi la politica sia un gioco collettivo, non mi piacciono gli avventurismi personali, che portano a posizioni poi sovraniste, ecco queste cose qua, gli stati nazioni molto forti. Quindi la Meloni e Salvini non ti piacciono? No, assolutamente no, perché hanno comunque un approccio personalistico alla politica. Di Berlusconi cosa pensi? Ma io sono tifoso del Milan, quindi non lo posso... Ma non è più del... Ormai Berlusconi è il Monza. D'accordo, però per quello che ha fatto, insomma, lui ha vinto quasi... Cioè, lui ha vinto tutto col Milan, ha vinto e rivinto tutto col Milan, quindi per me il presidente è il presidente del Milan. L'hai conosciuto? Un paio di volte. Un paio di volte, durante delle serate in cui Alfonso presentava un libro. Ah, che impressione ti ha fatto? Molto divertente, molto vulcanico, molto ironico. Sì, sì, in questo sono d'accordo. Certo. Secondo te è giusto che una persona quasi 86 anni però resti ancora in politica, non dovrebbe cedere il testimone? Ti faccio una domanda di politica così, perché mi hai fatto tutto un discorso... Sei in grado di farlo, perché no? Abbiamo molti esempi nella storia, no? E lui è in grado? Non lo so, allora io politicamente a me non ha mai seduto Berlusconi. Adesso però... Ci sono questi uomini politici che seducono, perché la fase di seduzione di Berlusconi è durata tanto, no? Sì, certo. Quella di Renzi è durata pochissimo, quella dei Salvini un pochino, un po' di più. Certo, ma non... Però è vero, ci sono questi uomini che hanno il periodo di seduzione, è proprio così. Ma io sono contro la demagogia, no? Sì. Cioè portare il popolo verso di sé, la demagogia è il personalismo nella politica, quindi abbiamo visto i risultati che hanno dato nella storia, insomma. Tutti questi sono esempi di demagogia. Io sono più per una politica fatta dal gruppo, dal partito, dal programma. E non dal leader che emerge. Non dal leader che emerge, nel rispetto della Costituzione e dei limiti che la democrazia deve giustamente porre. Io sono per questo, quindi... Senti, ha ancora due cose. Il rapporto invece con la fede? Il rapporto con la fede è sempre più solido, giorno dopo giorno. Sei credente? Sei cattolico? Sono credente, sono chiaramente essendo credente, mi oriento verso naturalmente la religione cristiana. Ho avuto dei momenti anche di forte dubbio. Ho naturalmente dei ragionevoli dubbi, perché la fede è una speranza più che una certezza. Al massimo è una certezza soggettiva, ma non è una certezza oggettiva, se no non sarebbe fede. Quindi io ho una forte speranza che possa esserci un modo oltre e che sia naturalmente... Ma sei praticante? Vai in chiesa, queste cose? Poco. Poco, poco. E invece, domanda bizzarra, ma te la voglio fare, sugli alieni cosa pensi? Gli alieni... Sono dei legami tra gli alieni e l'egittologia. Sì, certo, ma sono legami ad uso e consumo della fantarcheologia. Della fantarcheologia, sì. Gli alieni possono anche esistere, però mi sembra che finora non siano stati accertati. Beh, se lo chiedi a uno di quelli che li ha visti, dice... Certo, ma io parlo oggettivamente, con le prove inconfutabili. E ma tu pensi che ci sia qualche altra forma di vita oltre alla nostra, l'universo o no? Beh, è possibile, l'universo è sterminato, però bisogna vedere se riusciremo mai ad entrare in contatto. Sicuramente, quasi certamente... Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito ti direi Indiana Jones per... Eh, certo. ...di professionali, no, però ce ne sono tanti. Non so perché mi è arrivato questo flusso di mentale da te, che il tuo film preferito era un film di fantascienza. Però mi è arrivato un flusso sbagliato. No, 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 il Ladiatore mi è piaciuto molto. Eh, certo, quindi quelli sulla... Anche il Cacciatore. Ah, Cacciatore. Robert De Niro. Quelli belli, forti e avventurosi. Sì, sì, sì. Beh, anche Indiana Jones non è da me. Va bene, siamo arrivati alla fine. Allora, siamo partiti con questa intervista col fatto che tu ci porti una sorpresa. Certo. Che è una sorpresa a te, cara. Carissima. Che viene dopo di te, non la vedete qua, dovete aspettare la pubblicità e vedere Luciano Rindone al posto mio. Chi è che ci porti? Beh, allora, naturalmente a grande richiesta la mia compagna graditissima della Pupa Il Secchione, la mia seconda e vera Pupa Elena Morali. Elena Morali che ha accettato di esdraiarsi, anche lei. Quindi dopo la pubblicità vedrete l'intervista tra Luciano Rindone e Fare e Elena Morali. Intanto io ti ringrazio Aristide. Grazie a te. Per essere stato con noi, bella seconda volta su questo divano, ma ci hai raccontato altre cose. E quindi grazie per essere stato con noi, lo ritroveremo in gita con l'archeologo. Certo. E quindi anche quello tutti i lunedì c'è la in gita con l'archeologo, oggi giornata tutta su di te. Grazie, pubblicità, poi Luciano Rendone e Elena Morali. Grazie.